E ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'episodio numero 90 della nostra serie di Minecraft ETA Come già vi avevo preannunciato, oggi ci sarà una cosa veramente particolare all'interno della serie Ovvero, un nuovo speed build Non voglio darvi altri indizi su quello che si andrà a fare oggi Pertanto vi invito soltanto a lasciare un like e superiamo i 1923 like Se volete nei prossimi episodi un altro speed build su qualsiasi altra cosa e mi verrà poi in mente Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e detto questo, possiamo iniziare subito Allora, voi ridete scherzate, ma seriamente sto iniziando ogni volta gli episodi che sono di notte Cioè, non sembra andare a letto Allora ragazzi, off camera ho fatto un macello di roba Perché in video era impossibile da fare Ho perso quasi un pomeriggio intero a farmare tanto quarzo Tant'è che il livello di esperienza è salito di tipo 10 livelli, se non sbaglio, 10-11 livelli Questi qui, vabbè, li ho craftati perché comunque è super fornace, la copre se ne abbiamo manetta Qua sotto, cioè, non è quello il problema Con le commanding, pian piano si sta ripigliando E dentro le nostre due shulker box abbiamo Ah, questa città qui devo metterla qua a smistare Insieme a questi qua, ok Ho svuotato le due shulker box perché all'interno ragazzi Ho messo un sacco di oggetti che ho craftato, che ci serviranno per questo speed build Qua dentro abbiamo della lana, ho fatto la nostra farm di lana, l'ho dovuto ricolorare di bianco perché non le serve bianca E io purtroppo le pego le soltanto rosse e viola Qui abbiamo petro color alto, degli stombri che avevamo prima, già li ho lasciati perché saranno dei blocchi da costruzione che mi serviranno per fare i vari ponti, le cose così La terracotta che dovrei ancora colorare ma non so ancora come colorarla Della grey concrete E qua ragazzi abbiamo la shulker piena di quarzo, già in parte craftato, altre ancora da craftare Ho fatto già più o meno tutto il necessario, non so se basteranno i blocchi, non basteranno Io intanto sono una cosa per certo che è probabilmente dovrò fare delle ceste, infatti già me ne sono anticipato otto ceste Da mettere lì per riempire tutti gli oggetti Ci serve soltanto l'ultima cosa ragazzi, ovvero la neve Ci serve la neve, sì 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 Però fermi, non c'entra nulla col Natale Perché ancora naturalmente non vi ho detto di cosa si tratta Quindi prima di tutto Dei soffriti mi hanno messo a smistare i razzetti Ok ritrovati, li ho messi a smistare erroneamente Cosa devo fare adesso ragazzi? Quindi ci serve la neve Proverei a fare due cose Sono caduto appositamente Non è vero ragazzi Perché? Devo prendere delle zucche Eccole qua, pigliamo Ma ragazzi siamo pieni, madonna, siamo veramente pieni Io mi sa che a questo punto un paio di oggetti li posso adesso E poi dopo li porterò con me Quindi per ora questo qui non ci serve, mi possiamo posare un attimo qua Ragazzi, voglio adesso andare a cercare della neve Perché dobbiamo fare un bel pupazzetto di neve Oh, qua è morto uno scheletro Ci serve un sacco di neve Però non la neve fatta in blocchi o le palle di neve Ci servono in realtà gli strati di neve Ovvero questi qui che vediamo proprio qua normalmente Adesso andremo a fare appunto una cosa Allora, intanto si fa così Facciamo in questo Oddio sì, forse è un pochettino esagerato questo Ok, in realtà dovrebbe bastare che facciamo così Abbiamo fatto già dei blocchi In realtà non ne possiamo già fare il nostro pupazzetto di neve Soltanto che Dove un attimo imprigionarlo dentro qualche parte Quindi farei una cosa Farei tutta una cosa con la neve So che c'è il coso ben preciso su come farlo eccetera Però non mi interessa ragazzi Ecco, non mi interessa adesso Allora, se i miei calcoli sono esalti Adesso facciamo così Poi prendiamo questo Facciamo così Questo qua Pogliamo la zucca Dove darci il pupazzo di neve Eccolo qua Perfetto Facendo così ragazzi Con la pala Se ne andiamo a fare così Ok Dovremmo farmare All'infinito Palle di neve Anzi se ci mettiamo anche più vicino qua Così Cioè guardate già quante le abbiamo farmate Ecco Ho fatto il danno No, non usci No, non usci No, pupazzo di neve No Ecco, mi tocca rinchiuderlo di nuovo Ok raga Sono riuscito di nuovo a rinchiuderlo Prendiamo la cobblestone Facciamo così Pogliamo l'altra neve La facciamo così Così Spacchiamo questo Tac Perfetto Ok Ora ragazzi Ci siamo E praticamente Possiamo Farmare Neve all'infinito Cioè guardate ragazzi Quanto la prendiamo velocemente Perfetto Ci servirà un sacco di Un sacco di neve Quindi adesso la prenderò Solo tanti blocchi Per poi fare gli stride di neve Ecco raga Mi sono già riempito l'inventario Non neanche il tempo 30 secondi Già mi sono riempito l'inventario Ok iniziamo a fare Tutti i blocchi Di neve Ma se faccio così Forse A parte che Volendo Ecco potrei fare così Tac Ah guardate che quanto è comodo Sto libricino raga Per fare gli stride di neve Per fare gli stride di neve Invece ci serve il legno Legno che prendiamo adesso Da questo albero Crafting table Andiamo a piazzare qua Per fare gli stride di neve Si fanno così Bam ne abbiamo 6 ragazzi Anche se Ne servirebbero tipo Penso Sui 300 Ecco Non lo so Perché sarà una struttura Veramente grande E mentre farmo altre neve Vi spiego di cosa si tratta Ragazzi Avete presente La farm Nell'end di Enderpearl Bene Nel video di oggi Anzi Nello speed build di oggi La andremo a distruggere Quasi del tutto E creeremo Una cosa Veramente Fighissima Sarà sempre Una farm Di enderpearl Però Sarà una costruzione Completamente Differente Fra poco fa pure notte ragazzi E mi sa che Qua ci moriamo Ecco Sono di nuovo pieni Oh incredibile raga Allora Fare i blocchi di neve Veramente E' una cavolata ragazzi Si fanno subito Ok Ho fatto anche gli altri strati Abbiamo 1 2 3 4 5 stack E 2 palline di neve Penso che Bastino Perché 5 stack Già sono 300 Quindi Dovrebbero bastare Io adesso direi di Andare via Dal bioma di Aerobrine Che abbiamo creato Tanti episodi Anzi Dovrei Farlo ancora più figo Essere sincero Perché ormai Non mi piace più di tanto E' troppo Semplice Cioè ci sono pochissime cose Inerenti ad Aerobrine Certo E' abbastanza creepy Ragazzi Perché Cioè Vederemo se sia abbastanza creepy Perfetto ragazzi Detto questo Possiamo subito andare Nell'end Perfetto Eccoci qua Buttiamoci subito Nel portale Sbam Buongiorno Buonasera Allora Vi faccio un attimo vedere Cosa andremo A fare Per una cosa molto tattica Ovvero questa Perfetto Vogliamo un attimo Così vi faccio vedere La farm E questa qui è la farm Che ho fatto tanto tempo fa E funziona D'addio ragazzi E funziona Oserei dire Alla perfezione Ok Cioè guardate Siamo appena avvicinati Cioè guardate Già Ender Però ce ne sono Un cassino ragazzi Quindi Cioè noi bassi Facciamo così E' veramente semplice ragazzi Ecco abbiamo fatto Già un bel po' di esperienza Cosa andremo a fare Quindi ragazzi Questa farm Verrà del tutto smontata Per creare La nuova costruzione E faremo appunto Con lo speed build Quindi ragazzi Questa farm Verrà del tutto smontata E pertanto Possiamo adesso Iniziare Con lo speed build Still and silent Come before the storm Gold and diamond Jewels behind the throne Into the night Out of the dark Take to the sky Chasing the stars All that we said All that we are Waiting to fly This is the start Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria 31 seconds Auto sequence Start Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria Euphoria Stone and feather Move outside your head Now or never Strong in every step Give me a sign Hitting the mark Take to the sky Chasing the stars Open your eyes Watching afar Waiting to fly This is the start Hide and seek Reason and rhyme Tricks andơ Deh it will Tres l Die 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 Grazie a tutti. Ed eccoci qui ragazzi, è il giorno dopo, sono veramente stanco perché ho perso tutta la nottata a montarvi lo speedy build, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Adesso facciamo un giro veloce con l'elytra, così vi faccio vedere un pochino cosa è uscito fuori. Ok, eccoci qui, siamo ragazzi sopra l'ufo, ho cercato di ricreare un ufo, un disco volante nel land. Cioè per me come idea ci sta, adesso un attimo lo faccio vedere subito con l'elytra, da lontano, da vicino, faccio un giretto veloce. Allora partiamo per, intanto queste cose qui sono genialate, mettere i carpet così. Ragazzi eccolo qua, cioè ve gusta? A me piace tantissimo, guardate è fighissimo. Come se c'è il raggio che invece di risucchiare spinge giù, vabbè gli enderman. E diciamo che funziona benissimo, funziona da dio. Certo sono dovuto andare anche nel void a prendere l'endrod Perché così danno un effetto ancora più figo E mi piace un sacco ragazzi Mi piace veramente un sacco E' splendentissimo che piaccia anche a voi Adesso vi saliamo sopra Perfetto Una cosa è sicura Lo speed build è uscito veramente benissimo Sono veramente contento Come vi avevo pronunciato E' una tecnica diciamo leggermente diversa E spero che vi sia piaciuto Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Nada ragazzi Detto questo Io direi che questo episodio Può finire qui Quindi ragazzi Questo episodio Nella nostra serie di minecraft in ita Finisce qui Spontentissimo Vi sia piaciuto E' stato veramente Difficilissimo fare il tutto Ma alla fine Penso che sia uscito un video Veramente bello Detto questo Vi invito a lasciare un like Un commento qua sotto Tutte le vostre opinioni Passate in descrizione Perché ci sono tutti i link Dei miei social E infine Iscrivetevi al canale Se non vi siete iscritti Volendo per iscrivervi al canale E basculate nella volta Che sta cucito dal schermo E se già l'avete fatto Potete cliccare Sisto a destra Vedete un altro mio video No ragazzi Detto questo Spero che tantissimo Vi sia piaciuto E non ci vedo domani Con un nuovo video Ciao a tutti